20 studenti del Politecnico di Bari parteciperanno al Baker Hughes Pump Lab, il laboratorio congiunto tra il Politecnico di Bari e la storica azienda statunitense leader mondiale nel settore dell'energia, ovvero la Baker Hughes. La firma è avvenuta nella sede del nuovo pignone di Bari alla presenza dell'assessore regionale Sebastiano Leo. Una sinergia tra Politecnico e un'azienda importante per approdare a nuove tecnologie. Noi supportiamo e aiutiamo soprattutto i nuovi investimenti, la ricerca, lo sviluppo e soprattutto la formazione che è fondamentale. Dare ai nostri ragazzi e ragazze questa possibilità di formarsi soprattutto in azienda, quindi con una formazione duale è fondamentale. Un accordo di collaborazione scientifica quinquennale ma anche rinnovabile. Presidente, fiducia ai giovani e soprattutto agli studenti dell'Università del Politecnico di Bari questo per approdare a nuove tecnologie ma anche per avviare una sinergia col territorio. Sì, verissimo e ha usato la parola giusta, fiducia ai giovani. I giovani rappresentano il motore del nostro sviluppo. Quindi diciamo questa iniziativa che vede poi 20 nuovi talenti arrivare in azienda e occuparsi di ricerca e sviluppo è una grande iniziativa e dà fiducia sia sostanzialmente ai giovani ma anche al territorio. Lei parteciperà a questo progetto. Che significato ha per uno studente questa iniziativa? Per uno studente soprattutto del Politecnico di Bari significa una grande opportunità per poter cercare di realizzare i propri sogni, sogni per i quali insomma abbiamo studiato, abbiamo dedicato le nostre serate, i nostri impegni e per tutti noi è un sogno che si realizza. Un'iniziativa nella quale abbiamo creduto molto in linea con quella che è stata la politica del Politecnico degli ultimi anni di relazione con l'industria del territorio per mettere insieme i migliori risultati della ricerca con la visione dell'industria rispetto alle prospettive del nostro futuro. Grazie a tutti.